meteo temperature impicchiata in un weekend a rischio neve vaccini partite le prenotazioni per i marchigiani over 80 silicate polemiche sull'installazione dei new jersey angelini da record il pesarese il marchigiano più veloce di sempre nei 200 metri una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrice di rossini tv che ci seguite come ogni sera sul canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera con tutte le principali notizie di pesaro della provincia di pesorubino e della regione marche un territorio che in questa nostra edizione del 12 febbraio mettiamo sotto la lente di ingrandimento della situazione meteo e infatti in arrivo il weekend più freddo di questo inverno e domani potrebbe anche vedersi la neve incastrato fra carnevale e san valentino ecco un weekend con poche maschere ma abbondante vestizione di sciarpe guanti e cappelli sta gradatamente confluendo nella dorsale adriatica nelle marche e nella stessa provincia di pesaro urbino un flusso di aria artica che porterà neve vento forte e un sensibile abbassamento delle temperature un'incursione invernale dalla siberia che era prevista ma che rispetto a qualche giorno fa è stata ridotta per durata ma non per intensità secondo l'osservatorio meteorologico alessandro serpieri di urbino il picco del freddo in provincia di pesaro urbino è previsto nella notte fra sabato e domenica proprio domenica sono previste temperature fra i due gradi sotto zero e i due gradi a pesaro e fano ancor più basse urbino dove potrebbero non superare lo zero temperature gelide anche lunedì in ripresa fra martedì e mercoledì oggi la protezione civile delle marche ha emesso un bollettino di avviso di condizioni meteo avverse che per domani prevede deboli nevicate fino a quote di pianura nella prima parte della giornata possibili accumuli fino a 20 centimetri nell'immediato introterra nevischio ma con scarso accumulo sulla costa probabilmente nel primo mattino fascia costiera dove è lecito attendersi raffiche di vento da nord est con rischio di mareggiate sulle strade attenzione massima al rischio gelate è cominciata questo pomeriggio la procedura di prenotazione per i vaccini anti covid 19 riservata ai cittadini marchigiani di età superiore agli 80 anni ricordiamo che ci si può prenotare attraverso il sito delle poste o contattando via cellulare un numero verde link e numero che vi mostriamo in sovraimpressione e ci risultano già tante le prenotazioni ai vaccini che vi ricordiamo cominceranno il 20 febbraio a pesaro al centro sociale monaldi di via del novecento a fano al centro orto frutticolo codma e a orbino al pala carneroli sono tanti però i comuni delle aree montane che stanno chiedendo soluzioni logisticamente più praticabili a queste si è unita oggi l'unione pian del bruscolo il cui presidente palmi rucchielli ha scritto alla regione marche chiedendo di considerare per il territorio in questione postazioni vaccinali aggiuntive come il palavitri di valle foglia o il bcc palace di gradara passiamo ai dati sulle covid 19 nella nostra regione perché c'è un lieve rialzo della percentuale di casi rispetto ai tamponi effettuati passata dall 11,7 per cento di ieri al 15 per cento di oggi sono 515 casi rilevati nelle ultime 24 ore su 3.414 nuove diagnosi per un totale di 5.229 tamponi effettuati 122 i casi in provincia di pesaro urbino stabili i ricoveri nelle marche a quota 607 di cui 75 in terapia intensiva nella giornata di ieri si sono registrati anche 7 decessi ed ora ci occupiamo dei lavori in corso nella strada delle silicate dove l'installazione dei new jersey sparti traffico stanno creando proteste dei residenti e anche un dibattito politico sulla tematica ci troviamo oggi sulla strada delle silicate nota strada che collega pesaro agabic e cattolica passando per il territorio del san bartolo strada che purtroppo negli anni è stata teatro di tanti incidenti stradali e dunque da gennaio si è deciso di intervenire c'è un progetto dell'anas che prevede delle migliorie per quello che riguarda la sicurezza stradale con questi new jersey che vedete alle mie spalle che da qualche giorno sono stati installati in via provvisoria con la prospettiva della creazione di uno sparti traffico che diventi un dissuasore per i salti di corsia e per i tanti incidenti frontali che sono che si sono creati in questi anni avanzano i lavori ma avanza anche il malcontento malcontento da parte dei residenti di queste zone che contestano la procedura non ritenuta adatta a migliorare di fatto la sicurezza stradale ma piuttosto molto impattante su quella che la vita quotidiana di chi abita in queste zone protestano anche le associazioni ambientaliste che temono per la salute degli animali che attraversano questa strada infatti sono predisposti corridoi ambientali ma è ancora tutta in itinere la situazione e a raccogliere queste proteste anche il centrodestra delle comune di pesaro che ha proposto un'interpellanza in consiglio comunale per consentire all'amministrazione comunale di verificare davvero dove si diriga questo progetto di anas abbiamo deciso di protocollare un'interpellanza nella quale crediamo chiediamo due cose all'amministrazione la prima è che ascolti i cittadini i cittadini stanno chiedendo di poter vedere il progetto di poter sapere cosa sta succedendo e questo è stato troppe volte negato l'amministrazione non può non ascoltare le persone e le associazioni che stanno chiedendo spiegazioni e la seconda cosa che chiediamo è che l'amministrazione si faccia portavoce presso anas per portare delle proposte migliorative noi ne abbiamo elencate diverse nel nostro documento ne segnalo un paio la prima è quella della messa in sicurezza degli incroci a raso incroci di varie strade che si mettono sulla statale che sono veramente pericolosi e la seconda è quella di un ragionamento più ampio che deve essere una rivalutazione di tutto quel tratto di strada che tenga conto dell'attuale utilizzo e che tenga conto anche degli sviluppi futuri e della sostenibilità su quel tratto e in particolare si propone di ragionare a un ripensamento della percorrenza quindi quello di passare eventualmente dalle 4 alle due corsie e in questo modo si potrebbe garantire una maggior sicurezza e anche una soluzione di tutti i vari problemi che si stanno presentando non si è fatta attendere però la risposta dei consiglieri di maggioranza della commissione lavori pubblici amadori mattioli montesi e pandolfi che attraverso un comunicato stampa hanno stigmatizzato oggi l'incoerenza dell'opposizione che sempre secondo i consiglieri pd si è retta a salvatrice dell'incolumità dei cittadini dopo che nell'estate 2019 gli allora consiglieri nicola baiocchi e giulia marchionni proposero per primi di prospettare all'anas l'esigenza di barriere una decisione quella attuale non richiesta dall'amministrazione comunale pesarese che secondo i consiglieri di maggioranza avevano invece prospettato una soluzione di riduzione di corsie e realizzazione di rotatorie per attenuare la velocità su strada vi proponiamo ora una nostra intervista a franco arceci capo di gabinetto del sindaco matteo ricci a pesaro e prima ancora portavoce del precedente sindaco luca ceriscioli arceci dopo 16 anni di servizio in comune pronto ad andare in pensione ma resterà ancora in municipio come volontario questa esperienza è iniziata ad agosto del 2005 è iniziata con luca ceriscioli e si conclude adesso con matteo ricci è stata un'esperienza molto interessante che si è evoluta nel tempo io ho sempre interpretato questa esperienza come non farmi non mi sono mai negata nessuno e ho sempre interpretato da questa esperienza come avere sempre il numero di telefono a cui telefonare per poter risolvere i problemi quindi l'ho interpretato in questo modo cercando di risolvere i problemi che via via si presentavano nella nella città naturalmente questo ha creato anche delle cose simpatiche che che come dire mi hanno indotto poi a modificare anche negli anni questo mio atteggiamento il lavoro è sicuramente molto pesante però è anche molto gratificante io non mi sento stanco e quindi ho pensato di fare ancora un altro anno a servizio della città quindi non so dire in questo momento come come mi sento perché mi sento come uno che ha voglia di fare ancora un altro anno quindi vedrò come andrà questo anno ulteriore lo faccio molto volentieri spero che vada bene sulla stampa si è stato già definito tessitore mediatore risolutore di trame più o meno visibile dall'esterno della città si riconosce in questa definizione mi riconosco in questa definizione perché fa parte del ruolo di capo di gabinetto il quale fra le cose deve fare public relation che non si possono tradurre come relazioni pubbliche ma sono relazioni col pubblico e sono molto riservate il capo di gabinetto deve mantenere rapporti con tutti gli organi di stato con tutte le persone che contano in città con la povera gente col mondo sportivo col mondo economico col mondo sindacale praticamente con tutti questo io credo che sia il ruolo di capo di gabinetto e quindi sono d'accordo su con questa indicazione che lei dava ha citato il mondo sportivo nella nelle due nei mandati sia di ceriscioli chiedrici l'ha vista molto coinvolta appunto nelle relazioni soprattutto con la vispesoro e con la vl non dovrebbe magari essere coinvolto così tanto il comune ma ne è nata anche una sinergia positiva ma io credo che questo coinvolgimento dell'amministrazione comunale sia stato estremamente positivo non tutti si rendono conto anzi la stragrande maggioranza non si rende conto che se il comune non avesse svolto questo ruolo noi oggi potremmo non avere squadre per cui tifare il comune in momenti molto difficili ha svolto un ruolo di raccordo tra sponsor istituzioni tifosi società riuscendo a collegare il tutto e a tenere duro in un momento difficile cercando di come dire promuovere la tenuta e lo sviluppo di queste società quasi sempre ci è riuscito non sempre ma quasi sempre ci è riuscito e oggi se abbiamo società più solide e anche come dire competitive e anche grazie a questo lavoro che c'è stato negli anni passati è stato un giovedì di lauree a urbino coinciso anche con un giovedì di controlli straordinari della polizia per il rispetto delle norme anti covid polizia che ha infatti elevato 18 sanzioni di cui 14 per il mancato rispetto del coprifuoco un intervento ha riguardato anche il rischio di assembramento per una festa di laurea in cui c'è stata pure l'accensione di fuochi d'artificio domani 13 febbraio nel giorno del suo compleanno pesaro ricorda andrea guagneli musicista scomparso l'anno scorso a 33 anni guagno così era soprannominato era il batterista dei brothers in law un dj apprezzato nei locali pesaresi e un appassionato organizzatore di concerti per ricordarlo domattina alle 10 a palazzo mazzolari mosca gli amici di guagno firmeranno il pannello con il ritratto di andrea commissionato dal comune che sarà poi il sato sul portale dell'edificio dalle 11 partirà anche in filo diffusione la musica cara a guagno ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370 366 7210 il video segnalatoci oggi da voi telespettatori ci porta ad una situazione di degrado a pesaro studi in viale trieste il cortile dell'università ormai inutilizzato viene infatti frequentato da alcune persone che penetrano nella struttura dal lato della spiaggia riempiendola di rifiuti di ogni genere una situazione di incuria in uno stabile già l'abbandono ma anche una criticità ambientale di immondizia a due passi dalla spiaggia ed ora ci spostiamo nelle comune di cartocetto e in particolare a lucrezia dove il palazzetto dello sport cercolani è pronto a importanti lavori di riqualificazione partiranno a fine mese degli interventi molto molto importanti per 100 mila euro qui al palazzo sport cercolani di lucrezia dei lavori che consistono nel rifacimento integrale della copertura nella sostituzione della guaina e anche nel allestimento di tutta una serie di ancoraggi molto molto importanti tra l'altro un intervento che tiene anche conto della futura e prossima possibilità di produzione di energia rinnovabile necessaria al funzionamento dell'impianto attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici un intervento devo dire molto molto atteso da tutti i ragazzi e dalla società sportiva che frequentano questo impianto abitualmente una società sportiva che ricordiamo essere un esempio sul panorama sportivo nazionale dal momento che visita nel campionato di serie b2 e l'altra cosa da aggiungere è che grazie anche alla concertazione che c'è stata tra la direzione dei lavori e la società e l'abministrazione comunale riusciremo anche a realizzare questo tipo di intervento senza stoppare l'attività sportiva di APA. Ed ora allo sport poco dopo il nostro tg per chi ci segue nella prima edizione delle 19.40 ci sarà la palla 2 della carpegna prosciutto basket pesaro contro il banco di sardegna sassari in quello che è un quarto di finale della finale di coppa italia che si tiene al forum di milano domani invece torna in campo il calcio e la serie c alle 15 in campo sia vispesaro che fanno la vis ospita alle benelli la virtus verona mentre il fano sarà di scena a imola contro l'imolese sempre domani di sabato scende in campo anche l'ital service nel campionato di calcio a 5 alle 19 a padova contro il petrarca partita che come sempre potrete seguire in diretta su rossini tv a partire dalle 19.00. Il nostro approfondimento sportivo di questa sera è però dedicato all'atletica e in particolare a Lorenzo Angelini pesarese dell'atletica Avis Macerata che la scorsa settimana ad Ancona ha vinto i 200 metri indoor con un tempo che gli è valso il record marchigiano di sempre in questa disciplina ed è ed è Angelini Lorenzo Angelini atletica Avis Macerata 21 e 57 cosa rappresenta per te questo numero? Allora questo questo risultato per me è molto importante perché lo aspettavo da molto tempo da qualche anno e dopo sverati tentativi ce l'ho fatto ovviamente con tanti sacrifici e tanto tanto allenamento che mi segna come record regionale assoluto nelle marche quindi nella specialità dei 200 metri indoor e questo risultato per me significa significa molto perché comunque tutto quello che viene fatto al campo i sacrifici gli allenamenti alla fine poi ripaga tutto insomma. Un risultato che arriva a qualche mese dal bronzo di Padova che reputi probabilmente il punto più alto della tua carriera. Sì esatto il bronzo che ho fatto a Padova ai campionati italiani assoluti sempre nella specialità dei 200 metri è il risultato più importante di rilievo della mia carriera perché ecco è da 6-7 anni che non partecipo più a un campionato italiano assoluto per vari infortuni e cose del genere e quindi poter essere lì insieme comunque a tanti compagni di vecchia data e tornare a gareggiare comunque con quelli più forti d'Italia e poter arrivare in un podio assoluto che mai aveva pensato di raggiungere è stata un'esperienza veramente indescrivibile. Hai 28 anni e vieni da questi due risultati importanti che momento è della tua carriera e quali sono le prospettive per la stagione che verrà? Allora 28 anni intanto sono tanti però ancora c'ho tanto davanti sicuramente e quindi mi sto allenando tantissimo e ovviamente ecco è una cosa gli obiettivi allora innanzitutto sono ovviamente più ambiziosi rispetto all'anno scorso quindi poter migliorare sempre di più e poter volare sempre più in alto e ovviamente il prossimo obiettivo sono i campionati italiani assoluti di Rovereto che si terranno a giugno e quindi ecco poter sempre migliorare anche il mio personale outdoor nei 200 metri che è la mia specialità insomma. Volevo innanzitutto dire che dietro a questi risultati c'è un team che mi aiuta tantissimo e mi sostiene tanto partendo dal mio allenatore Antonio Savaia che mi sta sempre dietro con gli allenamenti, dalla mia mental coach che mi aiuta ad affrontare i momenti pre-gara, i momenti di allenamento nuovi, queste cose qua, alla mia nutrizionista che mi segue nel piano alimentare Lucia Rossi e al mio fisioterapista Dennis Marinelli che se poi è appena laureato da poco e quindi è fresco ed è oltre a un fisioterapista un atleta come me che lavora sul campo e quindi capisce comunque le mie esigenze. Voglio anche ringraziare una persona che è vicino a me da tanto tempo che è Valeria Fontanne che è stata insomma la mia ex allenatrice ma è sempre presente sul campo e mi ha cresciuto da quando ho iniziato a fare attività agonistica fino adesso insomma ecco quindi la ringrazio veramente tanto perché mi ha portato comunque da zero a risultati importanti. Ancora sport e andiamo oltre i confini regionali e precisamente a Rimini dove ieri il nostro Antonio Astuti ha seguito la presentazione della RBR Sport Academy sostenuta da Riviera Banca. RBR Sport Academy è un corso di formazione che nasce da un caso studio che fondamentalmente è proprio il progetto Rinascita Baschietrimini. L'obiettivo è quello di formare ragazzi anche che sono laureandi o laureati e soprattutto anche addetti ai lavori delle società in varie declinazioni. L'obiettivo principale è quello di formarli sulla gestione totale della società sportiva. Noi avremo corsi sia di marketing, di operazioni di marketing, sia di come si crea un brand sportivo, avremo corsi di diritto sportivo, avremo corsi di social media manager, avremo corsi di storytelling, quindi svarierà un po' in tutto il mondo della gestione delle società sportive e del management. Per noi il rapporto con RBR è stato un rapporto, è un rapporto favoloso e oserei dire che è un rapporto di amicizia operativa e quando si è amici si mette in comune tutto il meglio che si ha e allo stesso tempo si è in azione, si è in movimento. Questo progetto nasce da queste due parole, amicizia operativa. Cosa possiamo dare noi a questo progetto? La nostra esperienza, l'esperienza di essere un main sponsor di una società RBR che ha delle caratteristiche valoriari importantissime. La collaborazione nostra è stata quella di appunto sostenere questa iniziativa, questo Sport Academy, raccontando quella che è proprio l'esperienza di essere main sponsor di una appunto società molto molto importante. E questo era solo un assaggio dello speciale d'approfondimento sull'Academy realizzato da Antonio Astuti che potrete vedere in versione integrale mercoledì 17 febbraio su Rossini TV. E questa era l'ultima notizia anche del nostro Tg di questo venerdì. Prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento del weekend, cominciando dalla nostra prima serata di oggi alle 21.15, spazio ai cortometraggi della Fedic e del cineclub Cesare Pandolfi di Pesaro. L'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta con la nostra segna stampa Buongiorno Rossini per l'occasione condotta da Antonio Astuti. Sempre domani non perdetevi la partita dell'Ital Service Pesaro in trasferta a Padova contro il Petrarca, partita trasmessa in diretta da Rossini TV a partire dalle 19.00. E non perdetevi nemmeno una nostra prima puntata, un nuovo format che parte su Rossini TV, Wine and Luxury, questo nuovo programma della domenica sera. Si comincia domenica 14 febbraio alle 20.30 e questi sono gli ospiti della prima puntata. Tre esponenti del comune di Filotrano, Lauretta Giulioni, il sindaco, la responsabile della biblioteca Elena Federici e il funzionario del comune Roberta Adorante, così come il titolare della sartoria Luca Paolo Rossi e l'imprenditore vitivinicolo Gianni Gagliardo. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale. Da tutta la redazione il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV.